Allora, torniamo a fare un po' il punto sulla variante Omicron, su questa nuova ondata, perché non si fermano i contagi, soprattutto fra i giovanissimi, e si pensa che i contagi possano arrivare a delle cifre veramente alte nell'arco del mese di gennaio. Si discute molto delle misure da adottare ancora per frenare l'ondata, si discute del Green Pass o del Super Green Pass da adottare nei luoghi di lavoro, per accedere ai luoghi di lavoro, si discute di smart working, tra pareri favorevoli e contrari, soprattutto per quel che riguarda la pubblica amministrazione, si discute di riapertura delle scuole, di che cosa fare nelle scuole, alcuni, per esempio le regioni, chiedono di posticipare l'avvio della ripresa scolastica, diciamo così, altri sono contrari, insomma c'è un complesso di questioni di cui tra l'altro si parlerà e si discuterà fattivamente domani al Consiglio dei Ministri. Allora, cerchiamo di capire un po' qual è l'insieme delle questioni, lo facciamo con il professor Sergio Abrignani, immunologo dell'Università Statale di Milano e componente del Comitato Tecnico Scientifico. Buongiorno, professore. Ecco, buongiorno. Allora, tra poco ci collegheremo con Iman Sabah, perché con Iman Sabah? Perché in Francia stanno, credo da oggi sono entrate in vigore le nuove regole, sentiremo la loro esperienza e poi parleremo con Valentina Meilis, giornalista del Sole 24 Ore, proprio per l'aspetto, diciamo così, più legato all'ambito del lavoro e dello smart working. Allora, comincerei con Iman Sabah. Buongiorno, Iman. Quali sono queste nuove regole in Francia? Allora, la più importante doveva essere approvata durante la notte dall'Assemblea nazionale, ma il voto è stato rinviato. Oggi capiremo quando si voterà. Si tratta del pass vaccinale. Che cos'è? Fino al 15 gennaio, per poter accedere nella maggior parte dei luoghi chiusi in Francia, era necessario il pass sanitario, rilasciato sia con la vaccinazione sia con un tampone negativo. A partire dal 15 gennaio sarà rilasciato solo con il vaccino. Cosa significa? Le persone non vaccinate non potranno più entrare nei bar, nei ristoranti, nei cinema, all'interno dei monumenti e dei musei. Un'importante misura resa necessaria in seguito all'aumento spaventoso dei contagi. Oggi sarà una giornata decisiva perché avremo il dato vero rispetto anche ai contagi durante questi ultimi due giorni di EFES. Ieri parlando all'Assemblea nazionale il Ministro della Salute Olivier Verin ha detto che ogni secondo in Francia più di due persone risultano positive. Si temono dunque in questi primi giorni dell'anno 250.000 casi al giorno. Quali sono le altre misure per collegarmi anche un po' al dibattito in Italia? Lo smart working. A partire da ieri le aziende francesi hanno l'obbligo di fare tre giorni a settimana in smart working. Le scuole, anche qui, ieri sono state riaperte le scuole per 12 milioni di alunni che si sono trovati questo nuovo anno con le nuove misure, a cominciare dalla mascherina diventata obbligatoria in Francia, non solo al chiuso ma anche all'aperto per chiunque abbia più di sei anni. L'altra misura riguarda i tamponi. In caso di positività in classe non sarà più sufficiente un solo tampone negativo, ma ben tre, uno da effettuare ogni 48 ore. Grazie, grazie Iman per questo aggiornamento dalla Francia. Stanno seguendo l'esempio italiano. Eh sì, assolutamente. E del resto in Italia ci prepariamo a fare i conti, professore Abrignani, con un picco che dovrebbe arrivare, insomma, secondo quel che leggiamo dai giornali, intorno a fine gennaio. Però qualcuno, già da qualche giorno, e per esempio oggi lo fa Giovanni Rezza, che è il presidente, il direttore della Provenzione Sanitaria al Ministero della Salute, insomma ci fa capire che questa variante Omicron potrebbe essere in qualche modo la variante che comincerà a normalizzare SARS-CoV-2. Si dice guardiamo all'attenuazione dei sintomi che provoca la variante Omicron con cauto ottimismo. Volevo sapere che cosa ne pensa Abrignani. Ma concordo abbastanza con quello che dice il dottor Rezza, per due motivi. Uno, se guardiamo i numeri e lasciamo da parte il numero delle infezioni che è spaventosamente alto, però se guardiamo al numero di persone in terapia intensiva, quindi con malattia severa o addirittura i decessi, vediamo che equivale, inerante vaccinazioni, a quando avevamo circa 8-10 mila infezioni al giorno. Perché quando parliamo di 100-150 decessi e di 1.300 persone in terapia intensiva, era quello che osservavamo con tutte le altre varianti prima che arrivassero i vaccini. Qui abbiamo una combinazione di due cose. Un virus, questa variante, che probabilmente, anzi quasi sicuramente, dà una malattia un po' più attenuata. Gli inglesi che l'hanno visto da più, perché circa un mese che hanno già la variante Omicron ad alto livello, ci dicono che induce il 50% o meno circa di malattia polmonare, quindi malattia severa. Però siccome infetta 5-7-8 volte di più, anche se induce un po' meno malattia polmonare, è da tante sempre. Il punto a nostro favore è che siamo vaccinati, quindi la combinazione di un virus che è relativamente più, leggermente più benigno, diciamo, che dà meno malattia severa, ma soprattutto il fatto che siamo vaccinati, basti pensare che, questo ripeto sempre, che è fondamentale, su 1.300 persone circa in terapia intensiva, se fossimo tutti vaccinati ne avremmo 450, saremmo tutti in zona bianca a livello nazionale. Quindi i vaccini ci proteggono estremamente da una malattia severa. Questo ricordiamocelo per convincere anche quell'8% italiani che ancora non si è vaccinato. Quindi, professore, insistiamo su questo punto, sul fatto che il vaccino comunque continua a proteggerci anche dalla variante Omicron, visto che siamo nel pieno di un dibattito sull'obbligo vaccinale, voglio dire, comunque ricordiamo che la nostra arma principale resta il vaccino. Assolutamente. Sappiamo che i vaccini contro la variante Omicron purtroppo non ci proteggono dall'infezione a livello assoluto, infatti il 30-40% dei vaccinati si può infettare. Ma dalla malattia sì. Ma dalla malattia assolutamente sì, tant'è, basta guardare i numeri che dicevo. Cioè, il 7-8% dei soggetti non vaccinati rappresenta il 70% delle persone in terapia intensiva. Quindi, purtroppo per loro, perché ovviamente si ammalano in modo molto severo, ci sono ancora circa un milione e duecentomila italiani ultra sessantenni, che sono quelli che rappresentano il 98% della malattia ultra severe, o due milioni e otto, tre milioni di ultra cinquantenni. Quindi fanno male anche a loro. E in più danneggiano anche noi, perché passare in zona arancione, addirittura, scusi, in zona gialla o in zona arancione, o speriamo mai in zona rossa, ha delle implicazioni importanti anche sulla vita di tutti noi. Quindi, c'è dovrebbe essere un dovere civico e sociale il vaccinarsi oltre a proteggere se stessi. Senta, professore, che idea si è fatto sull'ipotesi di estendere il super green pass a tutti i lavoratori? Stiamo parlando di una platea di circa 25 milioni di persone. Secondo lei, questa è una misura che potrebbe aiutare a rallentare i contagi? Sicuramente sì, perché guardi, tutto ciò che serve a ridurre la circolazione del virus, è chiaro che se lei ha tante più persone che sono vaccinate, ovviamente riduce in modo significativo la circolazione del virus, ci si può ancora infettare, ma riduce enormemente l'incidenza a mattia severa. E si va sempre più verso quello che, in un modo inizialmente speranzoso, oggi un po' più convinto, come diceva anche il mio collega Gianni Rezza prima, quello che le citava si sta andando verso una indemnizzazione, che è quello che tutti speriamo. E quindi avere una malattia con tantissime infezioni e pochissime malattie severe, a quel punto non guarderemo. È come quando ci sono le stagioni dell'influenza, noi ci stiamo a ripetere quanti milioni di persone sono incertate con l'influenza. Quello che diciamo è che c'è una persona su mille che purtroppo è una malattia estremamente severa. E siamo più o meno lì, perché se lei guarda in Gran Bretagna i numeri di infezioni e i numeri di decessi, siamo uno su 500, uno su mille, che è esattamente la stessa letalità che dà il virus influenzale in una stagione normale. Quindi possiamo dire, professore, per capirci che siamo nella fase iniziale, cioè è l'inizio della fine della pandemia. Lei concorda con questa affermazione? Concordo che tutti i dati ci succescono questo. Ovviamente questo è un virus che non smette mai di sorprendereci, ma speriamo che questa sia la variante che ci consenta di instaurare un rapporto di endemizzazione. Ovviamente dobbiamo accettare l'idea, cioè molto probabile, che questo virus conviva con noi. E come noi accettiamo la nostra fragilità tutti gli altri inverni fino al 2019, anche se non ce lo dicevamo, accettavamo che ogni anno da 5.000 a 15.000 italiani morissero di influenza, che è quello che è avvenuto fino a due anni fa, a un anno e mezzo fa. Quindi accettiamo la nostra fragilità, conviviamo con un altro virus, non è più una malattia devastante, speriamo. Tantissime infezioni, ma poche malattie severe, soprattutto fra i vaccinati, motivo per cui vacciniamoci tutti. Grazie, professore. Grazie. Grazie, grazie.